Storia di Iqbal, capitolo 11. E finalmente venne la primavera dell'aquilone. L'ho sempre chiamata così dentro di me in questi anni. Ricordo ancora quando cominciò a soffiare il vento dalle montagne. Prima era freddo, ma pulito. Poi si ammorbidì al sole e spazzò via le nuvole, il fumo e la polvere della città. Poi asciugò la pioggia e l'umido, che si erano infiltrati dappertutto nei mesi precedenti. Infine ci fece sorridere. Nel cortile di Selciato spuntarono strani fiori ed erbe matte. Quando uscivamo per la pausa del mezzogiorno c'era odore di buono. Ricomparvero due gatti randaggi di cui non avevamo più avuto notizia e non c'era verso di acchiapparli. Mohamed si stendeva al sole e balbettava per la contentezza. Karim si stendeva al sole e brontolava perché temeva che il padrone ce l'avesse con lui. Fuscello era ancora più magro e fuscelloso di prima, se possibile, anche perché la mano gli era guarita e doveva lavorare come tutti noi. Il piccolo Ali era cresciuto durante l'inverno come un fungo dei boschi. Non era più il nostro piccolo Ali e questa era la grossa novità. Iqbal scappò di nuovo e questa volta eravamo sicuri che ce l'avrebbe fatta. Ci eravamo preparati durante tutto l'inverno. Ogni notte, alla luce dei mozziconi di candela che Karim e Fuscello, detto Ramazza, rubavano in casa dei padroni, Maria ci radunava e ci insegnava a leggere. Era assolutamente inflessibile. Anche gli zucconi cronici come Salman e gli sfaccendati totali come Karim non riuscivano a sfuggire al suo ferreo controllo. Come Lavagna usava un pezzo di pavimento in terra, opportunamente lisciato col palmo della mano e come matita un bastoncino appuntito con cui incideva le lettere dell'alfabeto che noi dovevamo ripetere in coro come un branco di deficienti. Non ci capisco niente, si lagnava Karim che già si confondeva dopo tre lettere. Non imparerò mai. Zitto tu, gracidava Maria e gliele faceva ripetere ancora. Lei ci insegnava a leggere, noi le insegnavamo a parlare di nuovo. Maria era figlia di un maestro di scuola della provincia di Faisalabad, rimasto presto vedovo e fin da piccola aveva giocato con i vecchi libri illustrati che sapevano di polvere e sembravano doversi disfare da un momento all'altro. Aveva imparato a leggere quasi da sola. Suo padre era povero quasi quanto i contadini che ogni tanto, malvolentieri, gli affidavano i figli perché ricevessero un'istruzione e che lo pagavano, altrettanto sporadicamente, con qualche prodotto del loro orto. I vostri figli non devono restare ignoranti, ripeteva continuamente il maestro, altrimenti resteranno servi e miserabili come voi. Volete questo per i vostri figli? No, maestro, dicevano loro togliendosi il cappello in segno di rispetto. rispettavano davvero il maestro e credevano sinceramente a quello che diceva. Ma i tempi erano quelli che erano e i figli servivano a casa per aiutare nei campi o per i servizi dovuti al padrone. Non c'era tempo per la scuola. Vai a insegnare ai figli dei ricchi, gli consigliavano i contadini. La scuola è per loro. Ma il padre di Maria non c'era mai voluto andare dai ricchi. Fino a quando si era invece dovuto rivolgere una prima volta all'usuraio del villaggio. E poi una seconda. Era tornato a casa con un gran dolore dentro il petto e non aveva più parlato. Il mattino dopo due uomini erano venuti a prendere Maria. Suo padre era sempre steso sul suo giaciglio. Non aveva neanche alzato la testa. Da allora Maria non aveva più aperto bocca. Ma come ti chiami veramente? Le avevamo chiesto subito. Io mi chiamo Maria, aveva risposto lei faticosamente, andando a cercare le parole giuste ad una ad una. Perché voi mi avete chiamata così. Siete voi la mia famiglia. Era passato quasi un anno dall'arrivo di Iqbal e in effetti qualcosa era cambiato tra di noi. Prima eravamo solo un gruppo di bambini che dividevano la stessa sorte e dove ognuno cercava di sopravvivere come poteva. Adesso eravamo solidali, uniti, eravamo amici e anche qualcosa di più. Insieme riuscimmo, una notte, a decifrare il famoso manifestino portato da Iqbal. All'improvviso, come per un miracolo, tutti quei segni malamente disegnati sulla sabbia, quelle impronte di gallina incomprensibili e spigolose, assunsero un significato preciso. Vedemmo una frase formarsi sulla carta. Da sola, ve lo giuro, noi non facciamo niente. Si formò da sola e ci disse delle cose. Ricordo che il cuore mi batteva all'impazzata, non ci potevo credere. Questo dunque era saper leggere. Guardavi una cosa morta e questa all'improvviso diventava viva, come una persona, e ti parlava. Lanciamo un fragoroso urrà e poi corremmo a nasconderci nei letti perché naturalmente avevamo svegliato la padrona. Lo ripetemmo tante di quelle volte a voce alta che me lo ricordo ancora adesso cosa c'era scritto. Erano poche righe. Dicevano basta con lo sfruttamento del lavoro minorile. In Pakistan più di 7 milioni di bambini vivono come veri e propri schiavi, costretti a lavorare nei campi, nelle fornaci di mattoni, nelle fabbriche di tappeti, per padroni avidi e privi di scrupoli. Vengono incatenati, picchiati, torturati in tutti i modi. Lavorano dall'alba al tramonto. Ricevono come salario per la loro fatica una rupia al giorno. I padroni invece si arricchiscono vendendo i tappeti pregiati ai mercanti occidentali. La polizia sa tutto e non interviene perché è corrotta. Ma c'è una legge adesso, anche nel nostro paese, che obbliga a chiudere le fabbriche candestine ed arrestarne i proprietari. Facciamola rispettare. Mettiamo fine a questa vergogna che disonora il nostro paese. I nostri figli hanno il diritto di essere solo bambini. Rivolgetevi a noi. Lottate con noi. Fronte per la liberazione del lavoro minorile. C'era anche l'indirizzo, naturalmente, che avevamo tanto cercato. Il problema adesso era arrivarci in quel posto. Facemmo un piano. La rissa scoppiò all'improvviso, mentre ce ne stavamo tranquillamente distesi in cortile a goderci il sole. Pare che Muhammad, che era sempre più goffo, avesse urtato Salman, rovesciando la sua ciotola di zuppa di lenticchie. Secondo altri, invece, era stato Salman, che in effetti tendeva a fare un po' il bullo, a prenderlo in giro per quei suoi piedacci spropositati e il montanaro aveva risposto per le rime. Un attimo dopo se le stavano dando di santa ragione e prima che Karim facesse in tempo a dire anche solo bu, la zuffa era diventata generale. Chi difendeva Salman, chi Muhammad, chi nessuno dei due, ma aveva voglia lo stesso di menare le mani. Chi avrebbe voluto restarne fuori, ma non ci riuscì. Noi ragazze facemmo la nostra parte, correndo per il cortile, urlando come oche e sollevando nuvole di polvere e penne di gallina. La padrona mollò il pentolone, rovesciando lenticchie dappertutto, e mosse le sue grosse gambe verso casa, chiamando il marito. Usain Khan comparve sulla porta in cannottiera e baffiunti, perché avevamo interrotto la sua colazione. Fermi, fermi, urlò. Ci vollero dieci minuti buoni per riportare la calma, altrettanti per una solenne lavata di capo collettiva, condita con le solite minacce e con l'inevitabile condanna a un giorno di tomba per i due responsabili del parapiglia. Poi ci toccò pulire il cortile che era allagato di zuppa. Finalmente Usain poté trascinare i due litiganti, che continuavano a insultarsi sanguinosamente, giù per le ben conosciute scale, rinchiuderli e tornare al suo pasto interrotto. Karim ci fette mettere laboriosamente in fila come tanti soldatini e ci riaccompagnò nel laboratorio. Ci fece avviare i telai, controllò che tutto fosse in ordine, ci pensò su, si grattò la testa, sputò due o tre volte in terra e gli ci volle ancora qualche minuto per decidere che c'era qualcosa che non andava. Riattraversò con grande calma il cortile, si aggiustò i pantaloni, bussò alla porta dei padroni e comunicò ad un esterefattus Saen Khan, che secondo i suoi calcoli mancava un lavorante. In effetti, approfittando della confusione, Iqbal aveva scavalcato il muro di cinta in fondo al cortile, preso la solita via degli orti e tagliato la corda per la seconda volta. Aveva un vantaggio esiguo, è vero, ma non l'avrebbero ripreso.